L'ansia di questi giorni è stata elevatissima. Ovviamente è giusto che si sia arrivati a una fine, ci sia una sentenza giusta, anche se nessuna condanna può mai ridarci Anna. Sicuramente ci si sente sollevati, non è il caso di fare festa, perché non è una festa, è una giusta condanna, è una giusta gratificazione che magari Anna Dallasu potrà accogliere con soddisfazione. Non si può mai essere contenti per una sentenza di condanna, specialmente per una sentenza di condanna a 30 anni di reclusione. Riteniamo però che sia stata fatta giustizia, quanto meno giustizia umana. Noi non possiamo fare altro in questo momento veramente con tutto il cuore, e anche da cittadini, da semplici cittadini, ringraziare la squadra mobile di Bari, della questura di Bari, che ha posto in essere un'attività di indagine incredibile, che si è impegnata in maniera incredibile nei confronti nostri per giungere alla giustizia. Ci hanno sopportato, ci hanno supportato, ci hanno affiancato e a volte anche ascoltato. Ci hanno fatto tutto sono un'attività di contribuire alla giustizia. Ciarsoni hanno affiancato e amici un'attività a la parte 이�觀眾, Grazie.